Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming, in questo video vi spiegherò come sapere se il vostro PC è compatibile o meno con il May 2020 Update di Windows 10 praticamente l'aggiornamento corposo di maggio, che è stato rilasciato di recente ma non è arrivato su tutti i PC a differenza dei classici aggiornamenti del passato Microsoft ha sempre distribuito gli aggiornamenti via Windows Update per tutti i PC, invece con l'aggiornamento di maggio che tra l'altro rega non pochi problemi è stato deciso di renderlo disponibile solo per determinati computer che montano certe build e che dispongono di hardware ovviamente compatibili come sapere quindi se il vostro PC può aggiornare o meno al nuovo update di Windows 10? Molto semplice, cliccate su Start, Impostazioni, cliccate su Windows Update o Aggiornamento e Sicurezza è la stessa cosa e vi ritroverete questo messaggio che vi informa che il vostro computer è compatibile perché l'aggiornamento di maggio è in arrivo però non potete installarlo adesso, cioè è compatibile perché è in arrivo ma il dispositivo non è ancora pronto ora non specifica se si tratta di qualche hardware che non è compatibile o se montate una build troppo vecchia o diciamo non compatibile con il nuovo aggiornamento comunque c'è da dire che se compare questo messaggio qui così come lo leggete in Windows Update significa che il vostro computer è compatibile ma dovete attendere se invece magari vi compare un messaggio di errore significa che il vostro PC non può aggiornarsi al May Update se non compare nulla cliccate su Verifica disponibilità aggiornamenti per individuare l'aggiornamento in questione, scaricarlo e installarlo sul vostro computer